Un sinistro tremendo, deceduti tre fratelli giovanissimi. Lo stato della Louisiana, il 17 dicembre, poco prima del Santo Natale, ha perso tre dei suoi concittadini. Si tratta di tre giovanissimi fratelli, la 14enne Cameron Simmons, il 16enne Christopher Simmons e la maggiore, la 20enne Lindy Ray Simmons, rimasti coinvolti in un tremendo sinistro stradale che non ha lasciato loro scampo. I tre viaggiavano a bordo di un SUV, colpito da un pick-up della Chevrolet che viaggiava in contromano sulla Interstate 49. La sorella maggiore dei tre ragazzi che hanno perso la vita, ha dichiarato, abbiamo ancora tutti i loro regali incartati sotto l'albero, in quanto i fatti si sono consumati a ridotto del 25 dicembre, ossia di Natale. Dalla ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine pare che, Lindy sia deceduta sul colpo, mentre Cameron e Christopher in ospedale, a causa delle gravi condizioni. Non ce l'ha fatta nemmeno John Lundy, il conducente della vettura che li ha travolti, ubriaco al momento del tremendo sinistro che ha determinato il decesso dei tre fratelli. In un post sulla pagina, la sorella maggiore dei tre che hanno perso la vita, ha descritto il momento che ha cambiato la vita della sua famiglia per sempre. Mi ha telefonato mio padre mentre ero a una festicciola di Natale e mi ha detto, la mamma ha avuto unile cose non vanno bene ma è stabile. Ha appreso tutto in questo modo il decesso dei suoi fratelli e da Facebook dove la notizia del sinistro era già iniziata a circolare. In un toccante post ha ripercorso tutto ciò che la perdita dei suoi tre fratelli le ha comportato, dicendo che la parte più sconvolgente è stata sapere che sua madre verrà informata del decesso dei suoi figli quando si sveglierà dal coma. Chiosando, siamo passati dall'essere una grande famiglia di nove figli a una di sei in un batter d'occhi. Non so come faremo a riprenderci da quanto successo. Diritti d'autore copyright 2024 Fideliti. Se i soggetti o gli autori delle immagini utilizzate in questo sito riconoscessero una violazione di copyright potranno segnalarlo alla redazione, che provvederà prontamente alla rimozione.